È diventata mamma per la terza volta, 50 anni d'età, ed è già nonna. Si chiama Rosanna Saltore, una commerciante di Porte Cagnano, e ha partorito ieri mattina un maschietto. 3,9 kg di peso all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La donna è arrivata alla 38 settimana di gestazione e i medici dell'ospedale battipagliese hanno optato per un parto cesareo, tenuto conto dell'età della donna, un po' avanzata. Il parto cesare si effettua da vaginio e colloco, dell'anestesista, della dottoressa, la signora ricoperata la domenica, e ha chiarito le prime puntazioni. Tutto è andato per il verso giusto, sembra senza alcuna difficoltà, complimenti a lei, e vi dobbiamo darvi la qua. Un saluto a presto. Questo video non vuole assolutamente dare la prevasi di Rosanna Saltoro, questo video vuole solo e esclusivamente informare eventuali persone, e come naturalmente mi vedete interessato di fare veramente molto, molto, ma molto buono.